Oh che bella e graziosa bambina, che sono di nuovo, un secondo disse. Quando i polli ebbero i denti e la neve calda e nera, bimbi state bene attenti, c'era allora, c'era, c'era. Sono versi della favola I tre talismani di Guido Gozzano, che sono risuonati nella sala polivalente del comune di Aglie, durante lo spettacolo Il Bianco Libro delle Fiabe, che, assemblea teatro, ha proposto ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie alla diesi in collaborazione con la città metropolitana di Torino e con l'amministrazione comunale. Il tutto nell'ambito delle celebrazioni del centenario della morte di Gozzano, che ricorrerà il 9 agosto. Il Bianco Libro delle Fiabe è un invito a leggere lo scrittore piemontesi in una chiave diversa da quella comune, che lo etichetta come esponente del crepuscolarismo. Le parole di un poeta possono essere anche delle parole fantastiche. In questo caso Gozzano ci ha regalato delle fiabe bellissime che lui aveva scritto per il Corriere dei Piccoli e un poeta può ritornare bambino. Questo ce l'ha insegnato Antoine de Saint-Exupery, lo scrittore del Piccolo Principe, ci ha detto che tutti i grandi sono stati almeno una volta bambini e quindi sarebbe bello che se lo ricordassero. Ecco, Gozzano se l'è ricordato e qualcuno dice che Gozzano è stato ricordato più per la sua fantasia per i bambini. E io dico che questa è una grande cosa se Gozzano è ricordato anche per la fantasia per i bambini, perché i bambini sono il pubblico più esigente, quindi quando si scrive per i bambini non si scrive qualcosa di serie B, si scrive comunque qualcosa di serie A. E Gozzano ci insegna anche un'altra cosa, o meglio regala un'altra cosa ai bambini, che è la ricchezza del linguaggio, perché noi oggi parliamo con pochissime parole, restringiamo il nostro lessico e invece un grande scrittore anche quando scrive fiabe usa parole meravigliose. Nell'organizzare le varie sfaccettature che fanno parte di questo centenario abbiamo voluto tenere in altissima considerazione i bambini, i bambini sono il nostro futuro, i bambini devono conoscere ovviamente la cultura, tutti gli aspetti culturali in generale, ma in particolare quelli legati al territorio in cui stanno vivendo. E quindi abbiamo veramente voluto far sì che le scuole fossero protagoniste in diversi modi in questo centenario ed in particolare quest'oggi con questa lettura delle fiabe di Gozzano da parte di Assemblea Teatro e grazie alla collaborazione anche qui di Città Metropolitana riusciamo a mettere un tassello in più per la conoscenza del nostro personaggio più illustre anche da parte dei bambini delle scuole.